Il ristorante è stato aperto da papà e mamma nel 1966 sul viale principale di Bergamo, viale Papa Giovanni. La nostra cucina è stata definita, con una definizione che mi è piaciuta molto, di elegante o pulenza. È una cucina fatta di grandi prodotti e è una cucina golosa. Io ho iniziato l'attività in cucina fin da piccolo. I miei genitori avevano un gran bisogno di aiuto e quindi si tornava da scuola e si iniziava già a lavorare. Uno dei più grandi maestri sono stati proprio i miei genitori, in modo particolare mio padre per quanto riguarda la cucina e l'apprendere le tecniche e imparare i sapori, allenare il palato. Per coccolare più i nostri clienti sicuramente cerco, cerchiamo di utilizzare i prodotti di un certo livello e far conoscere al nostro cliente la nostra cucina senza trasformare troppo il prodotto. Perché da sempre io ho vissuto il ristorante come casa mia e la sentivo anche casa di chi entrava e ci faceva visita. Sicuramente ciò che i nostri genitori hanno trasmesso a noi in questi 55 anni di attività, la passione per questo lavoro, l'amore per questo lavoro e la dedizione. Abbiamo ereditato dei valori importanti, sono i valori della famiglia, del lavoro e del rispetto. Questi sono i primari valori che abbiamo ereditato e li applichiamo giorno dopo giorno e forse questa è stata la chiave anche in parte del nostro successo. Ci ha fatto capire che bisogna fare delle ore per avere dei risultati in questo locale. Quindi se anche i valori che dei nostri genitori vengono poi trasmessi noi e i nostri figli speriamo non diventare naturalmente così grossi, però che la nostra realtà possa continuare per anni ancora perché quando si parte bene con la serietà in un determinato modo e ci si crede e si ha veramente passione e il cuore in quello che si fa possiamo raggiungere grandi obiettivi. Grazie a tutti.